ciao a tutti bentornati le migliori applicazioni le sei applicazioni selezionate iniziamo subito con la prima applicazione guidilizer un'applicazione per modifica di fotografia aggiunta di icone di stickers eccetera eccetera molto carina ho già qua una foto che ho fatto io a un etichettatore a un rullino di etichettatore un bioadesivo praticamente come come funziona c'è la possibilità subito di tenere o in originale o di andare in 4 terzi o di andare a 3 2 o di andare a 16 non insomma di impostare la foto come vogliamo poi di muoverlo ovviamente in qualsiasi lato noi vogliamo modificare di capovolgerlo oppure di zoomarlo ovviamente in out senza nessun problema come sto facendo io in questo momento o di girarla poi eventualmente come vogliamo noi di quanti gradi ci interessa quindi qui la prima modifica è sostanzialmente gradi angolazione ritaglio eccetera eccetera dopo una volta che l'abbiamo selezionata scelta così è salvata abbiamo la possibilità di incominciare ad applicare tutte le nostre fantasie le prime fantasie che vengono se me le fa aprire cortesemente sono creator che è praticamente la possibilità di essere noi i creatori di una nostra nuvoletta della nostra stickers da applicare oppure quelli già prestampati come dire un bel e lo un bel e lo da questa parte per dire poi possiamo aggiungerci un stickers con un più uno per dire ecco da quest'altra parte ovviamente tutti gli stickers sono sia indirizzabili in zoom in e out sia spostabili sia capovolgibili eccetera eccetera quindi si possono con questa freccetta avere veramente zoom marli capovolgere mettere l'uno qua mettere l'ello dove vogliamo noi e poi modificare la foto a nostro piacimento nonché aggiungere anche delle dei simpatici orsetti insomma delle simpatici immagini che poi possono essere anche scaricate delle ulteriori nostre aggiunte altre cose e qui si può sovrapporre altre foto cercare salvare oppure condividere con tutti poi il nostro lavoro creato e qua eccetera eccetera un qualche piccola pubblicità esiste ma l'applicazione è davvero valida perché in pochi secondi crea la foto la taglia la modifica la ruota aggiunge un sacco di stickers e permette di gratuitamente di condividerla quindi guidilizer interessante abc toilet applicazioni per i più piccoli per i bambini per imparare a leggere a scrivere ogni tanto che per le mani bambini ci vuole qualche applicazione è molto interessante della papumba appunto un gruppo che fa applicazioni per i più piccoli è gratuita ma poi ci vogliono degli addon a pagamento se si vogliono avere più lettere dell'alfabeto eccetera eccetera noi incominciamo con la base che è fare subito fermare il nostro carrellino eccolo qua incominciamo a giocare con la lettera a e vediamo un attimino cosa ci chiede tocchiamo la bolla il bambino facciamo finta che abbia tre anni e dobbiamo giocare nel bagnetto qua eccellente l'abbiamo vista a molto carina vedete stimola molto a riconoscere la lettera a la memorizza in modo che il bambino possa memorizzare la lettera per avere poi dei bonus quindi un ottimo lavoro grazie io sono adulto è più facile per me facciamo la lettera b e così dicendo si va avanti si gioca ci sono tantissime opzioni per imparare a scrivere e leggere ogni tanto ci vuole veramente anche qualche applicazione per i più piccoli perché sono assolutamente applicazioni molto interessanti un utente mi pare fosse De Fazio qualche giorno fa mi ha chiesto un'applicazione per bloccare chiamate sms indesiderati da determinati numeri io ho risposto via facebook che stavo per fare la puntata delle migliori applicazioni e mettere un'applicazione apposta true caller è l'applicazione che permette appunto di bloccare i numeri di telefono indesiderato qui c'è un piccolo banner pubblicitario true caller possiamo fare questo esempio 4916 della team che è il numero per chiamare il servizio clienti team come potete vedere abbiamo la possibilità di renderlo indesiderato quindi di bloccarlo di aggiungerci un'etichetta quindi assolutamente questa applicazione permette poi di modificare aumentare anche le tantissime opzioni dei numeri non solo di bloccare di salvarli nei contatti di aprire la cronologia qua di aprirla con vari programmi e qua è modificabile quindi possiamo poi dare un altro nome al numero di telefono che vogliamo toccare condividere copiare il numero e cercarlo sul web quindi la possibilità di bloccare c'è le numerazioni sempre vedete qua c'è la possibilità di vedere tutte le numerazioni identificate come indesiderate dalle impostazioni generale poi si può andare ovviamente a vedere tutto il generale disponibilità chi vuoi che veda il mio profilo andiamo qua perché poi lì c'è un po di privacy ci sono numeri personali non posso stare magari poi blocco qualche numero anche che non devo lo devo sbloccare numeri copiati app di messaggistica quindi identifica i mettenti sconosciuti su whatsapp live line viber telegram accesso alle notifiche se necessario quindi potete anche bloccare eventualmente delle dei whatsapp o degli sms quello che vi interessa a voi e feedback della tastiera seleziona rapida consente accesso alle notifiche quindi mostra le notifiche di true caller invece delle notifiche predefinite potete anche usarle come notificatore e notifiche delle chiamate perse oppure il dialer standard quindi potete usarlo sia come dialer interno con tutto il blocco delle chiamate indesiderate dei messaggi oppure no la vedo molto completa io spero che al nostro utente poi serva proprio questo tipo di applicazione tu mi chiede appunto numeri da bloccare con questo ci fai quello che vuoi scaricati true caller che non c'è problema poi lingue identificativi potete fare per i numeri sconosciuti per i contatti aggiungere anche una lingua diversa l'aspetto si può ovviamente anche l'identificativo chiamante cambiarlo e poi chi sono chi sono loro vuoi vi spiegarla bene il produttore dell'applicazione adesso andiamo avanti con livello laser che è un'applicazione interessante tolgo qua perché dobbiamo vedere subito come livellare praticamente è un'applicazione che ci permette di livellare gli oggetti come se fosse una bolla e avere più precisione no vedete nella identificazione dell'oggetto in questo caso c'è l'inclinazione a 13 gradi a 6 gradi vedete qua ci sono i gradi di inclinazione finché non è praticamente desiderata a noi l'inclinazione esatta possiamo farlo così con la riga semplice così incrociato andare con la messa a fuoco vedete oppure inquadrare direttamente semplicemente con la linea verde centrale che ci aiuta un po' a trovare la precisione tra la linea verde e la linea rossa abbiamo l'inclinazione desiderata scusate un'applicazione interessante che ci permette appunto poi di scusate sto uscendo dall'obiettivo di avere l'inclinazione giusta degli oggetti vedete che poi quello che ci interessa a noi è trovare l'inclinazione giusta quando io arrivo a zero ho l'inclinazione perfetta del mio oggetto posso poi togliere la riga verde inquadrare tutto direttamente togliere la messa a fuoco rimetterla e avere questo tipo di inclinazione nei gradi desiderati se voglio andare a una gradazione di questo tipo 19 18 e 7 inclinerò in questo punto e ottenuti 17 e 18 scusate gradi di inclinazione con le impostazioni possiamo dare anche qua un una trasparenza più o meno alle immagini come potete vedere ok oppure aumentare determinati agita la riduzione nessuna basso medio alto quindi sono anche delle impostazioni poi per la riduzione o la trasparenza dell'inclinazione se avete bisogno di inclinare e di trovare l'inclinazione in giusto dei vostri oggetti con livello laser potete trovare le inclinazioni giuste soprattutto se fate dei lavori di precisione siete persone comunque che hanno bisogno di fare disegni di trovare le inclinazioni giuste nei gradi dei vostri oggetti usate livello laser passiamo alla tastiera e tanto che non si vedevano tastieri la tastiera go keyboard il famoso go che è anche un launcher la classic è una tastiera molto carina mi è piaciuta ovviamente bisogna installare anche go qua oltre alla tastiera go keyboard una volta installato go keyboard poi potete usare anche la classic che è una skin apposta per avere appunto questa tastiera che la vedete qua sotto questa è la classic è già stata impostata la me ma continua a rompermi con il selezionare un fonte selezionare l'audio eccetera io la voglio adesso una pubblicità che si spara sempre è un periodo che l'applicazione un po di pubblicità ce l'hanno veramente quella potete provare vedete a un mi piace perché ha un pop up molto alto ve la faccio vedere da vicino vedete dei pop up molto belli anche la swipe che può scrivere veramente bene velocemente mi è piaciuta molto insomma go keyboard e la tastiera veramente che si avvicina molto alla swift key o alla touch pole che utilizzo che è veramente buona e questa può essere una valida alternativa così la togliamo e se la vogliamo provare la possiamo rimettere che la pubblicità non ci interessa italiano si possono veramente tutte le emoticon del mondo aggiungere ulteriori adesivi che si possono scaricare quindi molto personalizzabile chi più ne ha più ne metta veramente una tastiera che ha molta completezza l'unica rogna un po con la pubblicità un po invadente da questa parte mi ha la possibilità di avere ulteriori temi vedete veramente tantissimi go keyboard ci dà la possibilità oltre al classic di avere tantissimi temi sempre questa pubblicità rompiscatole quindi maiuscola e minuscola e comunque come vi dicevo anche lo swipe molto veloce molto bella la grafica a me è piaciuta molto questa classic come tipo di tastiera ma ce ne sono veramente tante avete visto quante personalizzazioni a questa questa go keyboard sono veramente temi infiniti per esempio potete scaricarvi questi new 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 ci sono quelli a pagamento quelli gratuiti e quelli con scritto sale sono magari a da pagare ma voi potete scaricare tutti quelli non a pagamento che sono veramente tanti guardate che bello anche questo color pur white insomma veramente una tastiera come un po sulla falsa riga di touch pole di swift key che permettono veramente tantissime personalizzazioni è una tastiera veramente molto bella ultima applicazione calcolo costo di cosa vostra autovettura solito discorso ha il bollo quest'anno a parte che non si sa se rimarrà non rimarrà questo bollo si parlano di voci di governo che forse lo aboliranno entro un anno due però per il momento si paga ancora speriamo perché la reputo comunque una tassa superflua in quanto già pago la macchina perché devo pagare la tassa sulla macchina se già la macchina l'ho pagata ma in italia a volte ci sono le triple tasse calcolo del bollo assaggio di proprietà e calcola assicurazioni cosa vuol dire voglio calcolarmi il bollo calcola in base alla targa in base kv in base ai dati del veicolo o controllo pagamenti effettuati del bollo auto adesso qua dovete mettere la targa voi della macchina che desiderate e farvi il controllo passaggio di proprietà interessante perché non si sa mai quanto costano costano tantissimo boh provincia di residenza mettiamo alessandria e mettere la potenza la potenza in capo mettiamo 60 kv e vediamo che cosa viene fuori con un passaggio di proprietà allora emolumenti al pra 27 euro imposta di bollo per trascrizione al pubblico registro auto 32 diritti mtc 9 euro imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione 16 euro quindi soliti bolli che vengono fuori da tutte le parti 84 euro di costi fissi che in italia sono sempre presenti ma non si capisce mai quali sono bene poi i pt 60.0 superiore a 53 kilowatt il costo è di 3,5 al kilowatt 210 euro è poi il costo del bollo no auto per una macchina di 60 kilowatt schermo stai acceso maggiorazione per la provincia di alessandria del 30 per cento qua poi ci spiegheranno perché promette alessandria una provincia che ha una maggiorazione per via della regione di appartenenza non lo so totali pt arrotondato 273 euro costo totale 357 euro ecco qua avete proprio tutta la didascalia del passaggio di pt 60 kilowatt in questa provincia chiaramente vedremo 84 euro di costi fissi che vanno poi a sommarsi ai 273 e a portare a 357 euro in effetti il bollo sarebbe di 210 euro ma si è spento il un attimo scusate se un attimo impallato il telefono non so perché la fotocamera è voluta venire fuori vediamo se riusciamo a risolverlo nel breve tempo non credo niente ah sì è la fotocamera che esce e non vuol farci tornare benissimo stavamo parlando di calcolo si è innamorato della fotocamera al telefono dopo questa parentesi calcolo appunto dei costi fissi da 210 euro che sarebbe poi il nostro 50 insomma 60 kilowatt noi andiamo a pagare ben 157 euro in più tra arrotondamento del 30 per cento per la provincia che non capiamo i costi fissi vabbè questo comunque il costo totale anche se sarebbe di 210 euro diventa di 357 ma l'importante è avere il calcolo del passaggio di proprietà calcolo assicurazioni ci porta sul genertel quindi su un basta un clic vi fa un preventivo con la targa dell'auto e la data di nascita del proprietario quindi qui abbastanza semplice si fa un preventivo genertel online e vi dice l'rc auto oppure incendio furto garanze aggiuntive quello che voi volete mettere dentro la vostra polizza e vi fa un costo subito come risparmiare quindi un'applicazione direi molto interessante perché permette appunto di avere tutti i calcoli dei costi appunto di passaggio di proprietà assicurazione bolle eccetera finisce la puntata delle migliori applicazioni qual è la migliore dell'otto secondo me true caller è l'applicazione da premiare perché blocco indesiderato dalle chiamate degli sms è un'applicazione ricercata non solo da quell'utente perché spesso ci troviamo a che fare con migliaia di numeri che non vogliamo che ci chiamino e quindi con questa applicazione possiamo assolutamente avere qualcosa che fa il caso nostro e oltretutto permette anche di essere un dialer personalizzabile in cui salvare i nostri contatti avere appunto a che fare con modifiche di contatti di rubrica eccetera eccetera l'è fatta molto bene quindi true caller per questa puntata delle migliori applicazioni da 4kitech da paolo uguale è tutto ciao alle prossime e grazie come sempre grazie a tutti